Accusa un malore in spiaggia a Sapri. È morto così Gerardo Salvucci, 55 anni, magazzinire della Salernitana dal 2011. Fatale e con ogni probabilità è stato un infarto. A dare l'allarme altri bagnanti che hanno notato l'uomo riverso in terra. Immediatamente sono giunti sul posto, la spiaggia del lungomare della Spigolatrice, i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. Presenti anche i carabinieri della locale stazione per i rilevi del caso, ma la dinamica pare essere abbastanza chiara. L'uomo è stato stroncato da un malore, si pensò di un infarto, dovuto probabilmente al sole e alle alte temperature. La notizia ha scosso l'intero club Granata ed anche i tifosi che vedevano in Salvucci una figura rappresentativa della squadra di Salerno. A tonita anche la comunità di Sapri, dove il magazzinire Granata era molto conosciuto, essendo solito trascorrere alcuni giorni dell'anno nel centro marittimo cilentano e dove nel 2021 era stato premiato con una targa dall'ente comunale.